Ciao e benvenuti in un nuovo video! Per un piccolissimo cambio nella schedule delle uscite dei video oggi parliamo dei migliori libri che ho letto quest'anno in realtà di tutti i libri che ho letto quest'anno li mettiamo in una gigantesca tier list e straordinariamente sono riuscito per la prima volta da molto tempo da quando ero ragazzo e avevo poche cose da fare a ritagliarmi abbastanza tempo per leggere esattamente un libro a settimana per tutto l'anno 52 libri in un anno sono davvero molto soddisfatto tra l'altro una settimana è più o meno quello che mi ci vuole effettivamente per apprezzare a pieno un romanzo non vorrei neanche leggere di più 4 libri a settimana è proprio il mio soft spot naturalmente se leggete meno, se leggete di più va benissimo ugualmente ognuno ha il proprio ritmo non vi fate venire l'ansia perché gli youtuber leggono 12 libri al mese li stimo moltissimo ma nessuno dovrebbe correre per leggere i libri spero che invece lo facciate come un piacere quindi vi dedichiate la lettura in maniera più serena comunque sono 52 romanzi davvero tanta roba quindi iniziamo subito una piccola nota l'abbiamo detto anche nel video dedicato alla tier list di tutte le serie tv che ho visto quest'anno ed è che da questa lista è escluso il libro migliore in realtà ne ho scelti due perché sono una sorta di ex equo per me e dei migliori libri, dei migliori film, delle migliori serie tv, dei migliori fumetti dell'anno invece parleremo in un video a parte che uscirà la prima settimana o forse la seconda settimana del nuovo anno quindi senza indugiare ulteriormente come al solito nel tier più alto la S abbiamo le migliori cose in assoluto che ho letto durante l'anno proprio delle specie di capolavori sulla A abbiamo degli ottimi splendidi libri nella B inseriamo tutti i libri buoni nella C inseriamo quelli che sì sono ancora carini però niente di che nella D invece i libri che mi hanno deluso che non mi sono piaciuti iniziamo con due libri che in realtà ho letto nei mesi scorsi e mi sono dimenticato di inserire in qualunque wrap up che ho fatto quindi li ho letti ma non ve ne ho parlati mentre invece degli altri trovate sempre qualche cosa in più all'interno dei wrap up sparsi tra i video wrap up che ho fatto durante tutto l'anno e che trovate qua sul canale i due libri mancanti tra i wrap up sono My Best Friends Exorcism è un libro molto carino, molto particolare è un horror parla dell'esorcismo della migliore amica della protagonista come dice giustamente il titolo è un horror che affonda le sue basi nella cultura degli anni 90 nel gusto degli anni 90 ed è assurdo quanto si riesca davvero a rievocare quel periodo attraverso le pagine del romanzo ma l'autore non fa solamente questo mette in piede una storia davvero inquietante è una splendida storia di possessione e un esorcismo davvero ripeto angosciante c'è una scena in particolare in cui la ragazza che poi verrà posseduta sparisce e le amiche la devono andare a cercare e vi assicuro che raramente mi sono sentito così in tensione quindi a parte la brutta copertina e anche se di prima chitto magari leggendo la quarta di copertina vi potrebbe sembrare una roba un po' troppo tin adolescenziale vi assicuro che non è così Grady Hendrix è un bravissimo autore di horror ed è straordinariamente bravo a creare personaggi femminili è una cosa che non dico solo io che sono un uomo ma mi è stata confermata da tantissime lettrici che mi avevano proprio consigliato di leggere My Best Friends Exorcism e Da Fiore che ha letto invece Gruppo di Sostegno per Ragazze Sopravvissute un altro romanzo dell'autore che sicuramente leggerò visto che mi è piaciuto moltissimo secondo me non arriva all'S ma perché ci sono delle cose bellissime quest'anno in S ma primissimo in A davvero in pole position altro libro di cui non vi ho parlato e mi dispiace moltissimo perché tra l'altro è legato a una straordinaria serie tv che ho dimenticato di inserire nella tier list dedicata appunto a tutte le serie tv che ho visto quest'anno Slow Horses Slow Horses parla di questo gruppo di spie che sono dei brocchi proprio letteralmente dei brocchi che sono finiti in questa divisione in cui buttano tutta la gente con cui è difficile trattare che ha avuto dei problemi che semplicemente viene considerata incapace il problema è che in realtà in questa divisione c'è più gente brava di quanto si aspetti le MI6 questo gruppo di brocchi si ritroverà per le mani un caso che apparentemente è decisamente più grande di loro tra l'altro hanno come capo un uomo trasandato vecchio che sembra non abbia assolutamente voglia di fare qualcosa ma invece si rivelerà decisamente più geniale di quanto sospettavano tutti è una storia di spionaggio è molto divertente ve la lascio in A assolutamente consigliatissima proseguiamo poi con i quattro romanzi di cui non vi ho ancora parlato perché racconto le mie letture con i wrap up con un mese di distanza quindi ne parleremo la prima settimana dell'anno prossimo non andrò a dire molto di questi romanzi perché ne parleremo in maniera molto più approfondita durante il wrap up vi dico solamente che i quattro romanzi gli ultimi quattro romanzi che ho letto quest'anno sono stupendi e tutti avrebbero potuto tranquillamente concorrere alla carica di miglior romanzo che ho letto quest'anno il primo è Le strade di Laredo lo metto immediatamente in S è un western è il seguito di Lonesome Dove ed è la storia di questo vecchio ranger che viene assoldato per dare la caccia a un bandito un bandito molto giovane che ha commesso degli omicidi ha assaltato dei treni al confine con il Messico è una storia sul tramonto in realtà degli eroi della frontiera è straordinario ve lo consiglio assolutamente vita di un ragazzo anche questo finisce direttamente in S molto spesso viene accostato a It di Stephen King e assolutamente ha ragione anche se in questo caso Robert McCammon l'autore di Vita di un Ragazzo si concentra molto di più appunto su un protagonista e insieme a quel protagonista sulla storia della città in cui il protagonista vive la sua infanzia è una storia raccontata in prima persona dal protagonista che racconta la sua infanzia passata alla fine degli anni 50 a Zephyr questa piccola cittadina idilliaca in cui sembra esserci ancora molto di magico molto di sovrannaturale e anche molto di spaventoso è una cittadina del sud e si parla anche molto nel libro di razzismo Spin è uno straordinario meraviglioso libro di fantascienza in qualunque altro anno sarebbe stato il mio libro preferito in assoluto è sicuramente entrato nella mia shortlist dei migliori libri di fantascienza ne parliamo meglio l'anno prossimo nel senso appunto della prima settimana dell'anno prossimo comunque ne avevamo già iniziato a parlare nel video dedicato ai libri da collezione quindi andate a dare un'occhiata a quello se volete appunto sapere esattamente di cosa parla Butcher's Crossing è la storia di una battuta di caccia al bisonte in realtà dello sterminio di una mandria di bisonti per l'esattezza di John Williams scritto magnificamente è uno splendido western e come ogni western è anche una splendida storia delle origini sanguinolente degli Stati Uniti d'America come vedete tutti e quattro i libri che ho letto a dicembre sono finiti immediatamente in esse perché effettivamente era davvero da tanto tempo che non beccavo una sequela così diretta così precisa di libri straordinari letti uno dopo l'altro sono davvero soddisfatto del mio dicembre e ne parleremo assolutamente meglio durante il wrap up comunque invece iniziamo con i libri che ho letto durante l'anno l'artiglio del conciliatore è il secondo romanzo della saga del libro del nuovo sole la saga di Gene Wolfe ne parleremo più approfonditamente in un video a parte visto che sto parlando di tutta la saga provate l'ombra del torturatore il video in cui parlo invece del primo e racconto anche quanto questa sia una saga particolare a metà tra fantascienza e fantasy che sia molto strana visto che il protagonista è anche il narratore della storia ma non ci si può fidare di lui è molto molto particolare davvero una lettura ostica ma divertentissima ve lo lascio in A George Pelecanos l'uomo che amava i libri è stata una delle letture che ho fatto nella sette libri in sette giorni è la storia di un uomo che amava i libri in effetti è un ex carcerato che ha imparato a leggere che ha imparato ad amare la lettura durante il suo periodo in carcere esce ed esce però con un grosso peso sulle spalle perché la persona che l'ha fatto uscire è anche la stessa che lo vorrebbe reintrodurre nel mondo della criminalità facendogli fare una cosa molto pericolosa cioè rapinare degli altri criminali il protagonista però è molto cambiato durante il suo periodo in carcere e quindi ha dei problemi di natura morale e anche pratica visto che non vorrebbe rientrare in carcere subito dopo essere uscito che faranno sì che il suo rientro in società sia parecchio burrascoso un'altra A per me stiamo mettendo tutte A una dietro l'altra ma sono contento di vedere che invece l'ombra degli dei un fantasy di John Gwynn con ambientazione norrena quindi vikingoni con le barbe dei asce sangue e mostri giganteschi mi ha fatto schifo non mi è proprio piaciuto per niente l'ho trovato stracarico d'azione in maniera insensata però nel senso che l'azione dovrebbe arrivare quando me ne frega qualcosa dei personaggi mentre invece non riesco a distinguere un personaggio dall'altro davvero tutto esagerato so che molte persone lo adorano forse non è il libro che fa per me il campione dell'ere invece è il terzo romanzo spero di non essermi sbagliato perché ho letto il terzo romanzo di Mistborn è una degna conclusione della trilogia che comunque sia ho sempre trovato decisamente inferiore alla folgoluce anche se c'è chi lo preferisce per me è una ottima B Legends and Lattes era molto atteso dai lettori di fantasy italiani è uscito quest'anno per Mondadori è un così fantasy è la storia di questa Barbara mezzorca che apre un piccolo caffè e praticamente è tutto là ha un po' il gusto di quelle giocate di D&D fatte tra amici in cui si finisce al cazzeggio forse per me è un pochino troppo cioè forse un po' troppo cazzeggio e poca storia so che è questo un po' lo spirito dei cosi fantasy per me però rimane un acci è un libro carino non ha niente di terrificante però decisamente non mi ha entusiasmato mentre invece mi ha entusiasmato parecchio schegge di Brett Estonellis la storia di Brett Estonellis di un Brett Estonellis fittizio racconta infatti l'autore di American Psycho una sua totalmente inventata adolescenza a Los Angeles tra i migliori college nell'alta borghesia americana e incrocia questa sua storia in cui c'è anche la scoperta della sua sessualità e l'accettazione dell'essere omosessuale incrocia dicevo questa sua storia con quella di un efferato spietato serial killer vabbè Brett Estonellis è un autore straordinario non devo dirvelo io e aspettate che li metto in ordine per me Butcher's Crossing è primo oddio no Spin è primo perché è davvero una storia pazzesca Butcher's Crossing è scritto in maniera divina le strade di Laredo se la batte con Bratcher's Crossing schegge sopra vita di un ragazzo continuiamo Steven Erickson I Giardini della Luna è stato il mio primissimo approccio alla saga di Malazan è una saga fantasy complessa difficile davvero gigantesca perché non mi ricordo se sono 10 11 volumi comunque è stato un buon inizio in realtà mi sono abbastanza casato non penso che sia un libro perfetto tutti mi hanno detto che è uno dei peggiori della saga sono molto contento di dire che comunque sia uno dei peggiori della saga comunque è un B e meglio anche del campione dell'ere che appunto è il terzo di Mistborn di Sanderson invece meraviglioso niente di nuovo sul fronte occidentale un libro che racconta la vita terrificante dei soldati tedeschi durante la prima guerra mondiale al fronte infilati fino alle caviglie nel fango e nel sangue dei propri amici amici molto molto ridicolmente giovani è una storia davvero straziante e un racconto meraviglioso di quel momento orribile della storia dell'umanità ve lo metto là subito in esse senza nessuna remora alcuna proprio I re della sabbia invece è una splendida storia in realtà una raccolta di storie però parliamo dei re della sabbia che dà il titolo alla raccolta scritta da J.J.R. Martin quindi il creatore delle croniche del ghiaccio del fuoco di Game of Thrones se avete visto la serie tv è la storia di un uomo che prende come animali di compagnia non proprio di compagnia però diciamo di sì un gruppo di strani esseri alieni che fanno questi grandi castelli di sabbia in questo terrario e hanno un'intelligenza abbastanza elevata visto che addirittura creano degli idoli con il viso del proprio padrone e che poi si scontrano in battaglia visto che sono quattro diverse società e quindi diventa una sorta di dio in miniatura però la storia va ancora più avanti perché si interroga su cosa succederebbe se questo dio fosse un dio malvagio e infatti il padrone che si ritrovano è una persona orribile molto molto bello direi in realtà sono molto 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 tentato di metterlo in S perché la storia è davvero straordinaria è un romanzo breve racconto lungo come preferite lo lascio primo in A però sappiate che in realtà no 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 lo lascio in S lo lascio in S perché è davvero bello 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 la spada spezzata splendida storia fantasy a profonde radici mitologiche non rene è stato scritto nello stesso periodo in cui veniva scritto il signore degli anelli Paul Anderson l'autore ha scritto splendido fantasy e splendida fantascienza è la storia di un bambino umano scambiato che vive invece nel mondo degli elfi e della sua controparte un changeling un troll a cui viene dato l'aspetto di un umano che invece vive tra gli uomini e del loro scontro visto che si arriverà a uno scontro tra questi due la spada spezzata è un libro meraviglioso lo metto primo in A e come dicevo nel wrap up del mese in cui ho letto la spada spezzata sarebbe interessante vedere un mondo che è andato diversamente in cui il libro su cui abbiamo creato la mitologia del fantasy non è il signore degli anelli ma la spada spezzata di Paul Anderson sarebbe stato un mondo decisamente più grim dark e non è stato fatto assolutamente apposta ma parliamo di Paul Dark che invece non ha nulla di dark in realtà è il primo romanzo di una lunga saga familiare ambientata alla fine del settecento in cornovaglia Paul Dark è un uomo che torna dalla guerra di indipendenza americana lui è un inglese quindi ha lottato con la parte sbagliata con quella perdente dicevo torna riottiene il suo titolo scopre che molte delle ricchezze del padre sono andate perdute e cerca di ricreare una sua fortuna in un mondo che gli sembra rimasto indietro dopo che si è abituato a costumi decisamente diversi da quelli della vecchia Inghilterra è un'ottima ottima storia direi prima in B mi è piaciuto davvero molto e pensavo che non mi sarebbe piaciuta tra l'altro so che c'è una lunghissima serie tv non sono certo che continuerò a leggere la saga di Ross Paul Dark in romanzo perché non è proprio il mio però forse invece darò un'occhiata alla serie invece è decisamente il mio gli unici indiani buoni è un horror davvero fantastico molto gore molto splatter e ha come protagonisti un gruppo di indiani che ha fatto qualcosa in passato è un po' un mistero nella storia quindi non vi dico esattamente cosa ma viene perseguitato da una creatura legata alla cultura appunto degli indiani d'America bello 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 meno della spada spezzata che ha proprio un valore anche proprio storico ma decisamente una grande storia mare della tranquillità è una storia di fantascienza pazzesca sul viaggio nel tempo tre diversi personaggi che sono i protagonisti di tre diverse linee temporali un quarto che le unisce tutte che è quello che viaggia nel tempo e detto questo è una storia che in realtà potrebbe tranquillamente piacere a chi fa schifo completamente la fantascienza perché la fantascienza di emily san john è davvero molto sfumata e in realtà va a parlare tanto dell'umanità dell'essere umani e di quanto queste persone così distanti nel tempo in realtà si assomiglino proprio perché appunto sono umane una s decisamente una s una s anche bella alta l'invincibile di stanislaw lem è invece un classicissimo romanzo di fantascienza l'autore simbolo della fantascienza più psicologica più filosofica in realtà in questo caso scrive una storia molto molto canonica un'astronave scende su un pianeta che dovrebbe essere disabitato ma su cui è scomparsa un'altra astronave e deve indagare appunto su cosa gli è successo e su come sia possibile che un'astronave tanto potente piena di militari e di armi a bordo sia sparita in un pianeta in cui non dovrebbe esserci nessuno davvero molto bello ve lo lascio in a il totem altro horror anche in questo caso ha vagamente a che fare con leggende dei popoli americani parte come quella che potrebbe sembrare una storia di lupi mannari ma in realtà reinterpreta in maniera molto originale il mito del lupo mannaro non è per me un romanzo da A ma serenamente da B tra l'altro B molto alta diciamo il primo nella B per ora le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe è un libro importantissimo un libro dell'orrore un libro d'avventura di navigazione e secondo me potrebbe essere considerato quasi il prequel di alle montagne della follia di Lovecraft che tra l'altro si è fortemente ispirato a Gordon Pym l'ha sempre detto è un bellissimo romanzo secondo me si porta un pochino sulle spalle il peso dei tempi è un romanzo fondamentale io lo lascio in A anche se sappiate che se vi piace il genere horror è una lettura imprescindibile perché davvero getta le basi di tutto un filone horror che poi verrà seguito appunto da Lovecraft Clark Ashton Smith tutti quegli autori che poi hanno fatto la fortuna dell'horror moderno Il re delle volpi è un libro meraviglioso davvero bellissimo in questa lunga lista di libri stupendi ve lo metto qua è il libro che ha scritto mia moglie quindi sono forse un pochino di parte ma vi posso assicurare che è una storia bellissima è una storia che parte come un romanzo di Jane Austen con una ragazza di buona famiglia che è costretta a sposare un uomo che non ama a cui però un giorno succede qualcosa di molto strano perché incontra una volpe parlante durante una battuta di caccia fatta nella villa dell'uomo che dovrà sposare e questa volpe gli dice di essere il braccio destro del re delle volpi cioè uno dei signori di Feire il mondo del piccolo popolo di quel mondo che ad esempio ha raccontato in sogno di una notte di mezz'estate Shakespeare e che il suo signore il re delle volpi se lei riuscirà a riportarlo nel mondo di Feire gli concederà di esaudire un desiderio Marian la protagonista dopo aver accettato la follia di aver appena parlato con una volpe si imbarca in un'avventura arriva effettivamente a Feire ma scoprirà che il re delle volpi non è proprio quello che lei pensava anzi che è proprio un po' uno stronzo il rapporto fra Marian e il re delle volpi è stupendo c'è tantissima magia nel libro ci sono degli scontri magici fichissimi lo scontro magico finale è uno dei più fighi che io abbia mai letto e sapete che leggo tanto fantasy e tanto fantasy con tanta magia ripeto so che probabilmente penserete che sono un po' di parte ma vi posso assicurare che è un libro meraviglioso che vorrei leggere adesso ora in questo momento il secondo il seguito e penso che potrò farlo quando lo scriverà Fiore perché lo fa alla scrivania qua accanto Dark Matter è un altro splendido straordinario libro di fantascienza è molto difficile parlarne senza fare spoiler perché l'argomento stesso del romanzo è un po' uno spoiler sulla trama perché fino a pagina 50 è la storia di quest'uomo che aveva un promettente futuro nella fisica ma ha deciso di dedicarsi alla famiglia ha qualche rimpianto però ha una famiglia meravigliosa un giorno mentre esce da un bar in cui si festeggia un suo amico che all'epoca era meno bravo di lui ma ora ha ottenuto un importante premio viene rapito viene rapito da una persona che stranamente lui crede quasi di riconoscere e questa persona armata di una pistola e con il volto coperto finirà per rubargli tutto la sua stessa vita ripeto non posso parlarne più di tanto ma posso assicurarvi che black matter è un libro pazzesco davvero sì secondo me è anche meglio di schegge e lo so che adesso gli amanti si stanno facendo saltare in aria ma semplicemente a me piace più black matter di le schegge sono due libri bellissimi però a me piace più la fantascienza piuttosto che la storia di formazione di un giovane negli anni 80 nella los angeles degli anni 80 night flyers night flyers è un altro ottimo romanzo breve di george martin un altro romanzo di fantascienza è una strana storia che parla di un'astronave in cui ci sono delle persone che stanno andando alla deriva nello spazio alla ricerca di una leggendaria mitologica razza di alieni di cui parlano molte specie molte razze nelle varie galassie che compongono la federazione dei pianeti questo grande impero galattico se ne parla ripeto in molte delle storie dei miti di molte razze diverse nessuno è riuscito mai a contattarli e questa stranave sta andando appunto a fare questo in realtà poi la storia parla più di un problema che capita alla nave però sarebbe spoiler parlarvene quindi vi dico che è un'ottima un'ottima storia la lascio in a l'anno scorso ci ha lasciato un grandissimo autore dell'horror americano che è Peter Straub ho colto la palla al balzo visto che avevo Mr. X a casa da un po' di tempo è una storia molto strana parla di una famiglia maledetta e stranamente legata a Lovecraft parla apparentemente di un serial killer con una doppia personalità anche se poi scopriremo che non è esattamente quello di cui parla la storia mi ha affascinato la complessità della trama e della narrazione Straub è decisamente qualcuno che voglio tenere d'occhio di più sicuramente l'anno prossimo leggerò Ghost Story che è considerato il suo capolavoro assoluto e che avevo in realtà già iniziato un paio di volte ma poi per le cose della vita mi sono fermato e non ho continuato ve lo lascio in B però molto alto in B e so per certo che non è uno dei suoi romanzi migliori quindi ripeto voglio assolutamente approfondire Straub Skolomans Skolomans è un libro di cui mi avevano parlato molto male che mi ha molto divertito è una dark academia fantasy è la storia di questa scuola in cui vengono rinchiusi i ragazzi che hanno dei poteri magici per proteggerli dai mostri che sembrano essere attirati appunto dal loro umano dalla loro capacità di fare magie raccontato così sembrerebbe un dark fantasy mentre invece è un libro divertentissimo tendente allo young adult però con un war building e un sistema magico davvero particolari ne ho parlato meglio nel wrap up anche perché appunto è un po' complicato da spiegare visto che è un war building molto complesso mi è piaciuto parecchio ve lo lascio in B una solida B e in realtà sono quasi certo che continuerò a leggere la saga Wool o anche la saga del silo è la storia di questo gruppo di persone che vive in questo silo interrato sono 100 piani giù in fondo alla terra e all'interno di questi piani c'è un po' tutta la società è stata ricreata dal fondo in cui lavorano i meccanici che fanno andare le macchine che permettono al silo di sopravvivere ci sono piani dedicati agli ospedali ci sono piani dedicati alle culture ideoponiche ci sono piani dedicati all'amministrazione che sono quelli più in alto e fuori da questo silo sembra che ci sia la fine del mondo però le persone all'interno del silo non sanno perché sono nel silo perché sono ormai generazioni che vivono là e si è un po' dimenticato quello che è successo là fuori mi è davvero piaciuto molto ve lo lascio anche questo in A devo dire che quest'anno ho letto parecchie cose belle e poche cose mediogri o bruttine una cosa bellissima che ho letto è in fuga la storia di una fuga appunto di un rapinatore e della sua compagna che fugono dopo aver commesso una rapina in banca è una fuga angosciante e terribile perché in realtà i due iniziano a avere paura che l'altro lo freghi è una storia anche di un rapporto d'amore malatissimo di una una storia assolutamente tossica tra i due Jim Thompson è un maestro del thriller il ritmo è serratissimo e ha un finale che mi ha davvero davvero stupito lo lascio assolutamente in esse scusami amore lo metto lo metto lo metto per me delle strade di l'arido mi è piaciuto di più Jim Thompson davvero carinissima la storia di Brandon Sanderson che non è ancora stata pubblicata in Italia dedicata a un pubblico di ragazzi Alcatraz vs The Evil Librarian è il primo romanzo appunto di questa saga per ragazzi di Brandon Sanderson parla di questo ragazzino che ha il superpotere di rompere le cose e i nemici più temibili che dovrà affrontare sono appunto gli Evil Librarian cioè i bibliotecari che apparentemente in questo mondo nascondono l'esistenza di un mondo diverso un mondo molto più magico decisamente più divertente in cui ad esempio i dinosauri non sono morti e tra l'altro parlano è davvero folle e assurdo e rutilante e non so cosa altro dire naturalmente non sono il target perfetto ma visto che sono un bambino vi dico che comunque sia è un buon libro Builders è un libro che mi ha stupito moltissimo è una di quelle classiche storie che potete citare per sembrare davvero dei fichi perché è un romanzo breve perfetto che però conoscono in tipo tre persone è una storia di vendetta western con protagonisti animali antropomorfi se vi è piaciuto Rango adorerete The Builders e se avevate adorato Red Wall al tempo adorerete The Builders ve lo metto in A in A molto in alto ho dovuto rimpicciolire tutto perché se no non c'entrava più niente il sospetto bellissimo romanzo di Durra e Matt è la storia di un commissario ormai in pensione che mentre è sul letto di un ospedale scopre che uno dei suoi medici potrebbe essere stato un medico nazista e appunto delle sue indagini per scoprirlo finirà per questo in una sorta di girone dell'inferno è davvero una storia angosciantissima ma davvero stupenda anche questo il sospetto ve lo lascio in esse bellissima storia di fantascienza lo so che continuo a dire bellissimo fantastico meraviglioso però cavolo ho letto davvero ottime cose quest'anno è il nuovo romanzo dell'autore di The Martian da cui stavo tratto The Martian il film di Ridley Scott è la storia di quest'uomo che si risveglia scopre di essere su un'astronave di non ricordarsi come ci è arrivato e che però molto probabilmente il destino di tutta l'umanità grava sulle sue spalle una scoperta dopo l'altra un colpo di scena dopo l'altra una spiegazione scientifica geniale dopo l'altra il romanzo di Andy Weir mi ha davvero incantato e ve lo lascio in A per primo davvero davvero bello Dottor Futuro uno dei peggiori romanzi di fantascienza di Philip K. Dick che però è uno dei migliori scrittori di fantascienza quindi non un brutto romanzo ve lo lascio in C parla di Viaggi nel Tempo c'è un'idea che è davvero clamorosa che riguarda il Viaggio nel Tempo ma purtroppo non me ne posso parlare perché è uno spoiler perché è molto avanti nella trama del romanzo Il Volo del Drago di Anne McCaffrey è invece la storia di questo pianeta su cui ci sono dei draghi o meglio vengono chiamati dei draghi però in realtà sono delle creature aliene e di un altro pianeta che si avvicina nella sua rotazione ogni 150 anni al pianeta in cui ci sono appunto questi draghi che vengono cavalcati da questi dragonieri che in teoria dovrebbero difendere il loro pianeta da una minaccia che arriva ogni 150 anni quando l'altro pianeta si avvicina è una buona storia ve lo lascio anche questo in B Lezioni di Mekkiwan è un libro scritto benissimo di cui non me ne è fregato praticamente nulla è la storia della vita di quest'uomo che in realtà si incrocia con le vicende della storia contemporanea inglese non posso dire che è un brutto libro perché in realtà è un bel libro è che a me personalmente non è fregato nulla della storia ve lo lascio in app perché ripeto è un bellissimo libro però per gusti totalmente personali mi è piaciuto ma non mi ha interessato i miei stupidi intenti altra storia carinissima parla di animali parlanti nella fattispecie di una piccola donnola che finisce per lavorare per uno strozzino una volpe che fa lo strozzino si parla di religione di fede si parla di tutte quelle brutture di tutte quelle cose che rendono belli gli umani l'autore è italiano mi è piaciuto abbastanza mi è piaciuto abbastanza mi è piaciuto sicuramente più di McEwan ve lo lascio qua Il trono del drago Il trono del drago è un romanzo che ha ispirato George Martin che ha ispirato Brandon Sanderson che ha ispirato Patrick Rothfuss e ho scoperto che effettivamente è un grande grande romanzo fantasy che si va a mettere esattamente a metà tra il fantasy classico e il fantasy moderno è il ponte perfetto tra i due c'è un protagonista predestinato c'è il viaggio dell'eroe ci sono gli incontri con i compagni che si uniscono alla compagnia c'è un drago c'è la magia però c'è anche tantissima politica e Todd Williams è uno dei primissimi a introdurre quest'elemento all'interno del fantasy davvero un bel bel libro lascio in questo mi è piaciuto davvero tanto mi è piaciuto davvero molto 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 piccole cose da nulla altro bellissimo romanzo romanzo brevissimo a differenza di Todd Williams che ha scritto 2000 pagine e in cui le prime 200 devo essere sincero poteva anche tagliarle un pochino piccole cose da nulla parla di una cosa terribile cioè degli orrori perpetrati nei monasteri irlandesi ai danni delle giovani madri di giovani madri che non avevano un marito e i cui figli gli sono stati strappati e che hanno avuto destini praticamente da schiave all'interno di questi luoghi ed è una storia che raccontata così potrebbe essere la storia del 1800 mentre invece è una storia che è andata avanti praticamente fino alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 è una vergogna un orrore uno dei motivi per cui personalmente ho orrore della chiesa cattolica e ve lo lascio in esse anche questo bellissimo davvero molto molto bello il club dei delitti del giovedì è uno spassosissimo giallo con protagonisti un gruppo di vecchietti di una casa di cura in cui si forma questo club che va a investigare su dei casi irrisolti ripeto è divertentissimo splendido umorismo inglese puro british mi son divertito davvero molto ve lo lascio in A anche questo parecchio in alto il paese delle due lune è diventato immediatamente uno dei migliori fantasy che abbia mai letto nella mia vita ne parlerò sicuramente più approfonditamente nei prossimi mesi lo lascio in esse in pole position sapete che ho un soft spot per il fantasy purtroppo è un romanzo che è molto difficile da trovare ma che vi invito a cercare nelle bancarelle a trovare nei mercatini perché vi assicuro che è una lettura fantasy davvero molto particolare visto che si parla di perdere la propria patria di esuli di memoria davvero un sacco di cose che difficilmente si trovano all'interno della narrazione della narrativa fantasy il mio romanzo viola profumato di mckiwan a differenza di lezioni mi è piaciuto tantissimo è un romanzo brevissimo e parla di un furto letterario e devo dire che in poco più di cento pagine riesce a mettere tanto di più che in ottocento di lezioni mi è piaciuto straordinariamente ve lo lascio in A molto in alto 6 di corvi 6 di corvi è stata un'altra delle delusioni del mio anno perché me ne avete parlato tutti molto bene sospetto che Libardugo decisamente non faccia per me ve lo lascio in D insieme all'ombra degli dei per ora e penso anche fino alla fine sono gli unici due romanzi che davvero non mi sono piaciuti di solito io smetto di leggere i romanzi quando non mi piacciono quindi raramente finiscono romanzi in D questi due li ho letti fino alla fine perché me li avevate consigliati fino alla morte purtroppo ripeto forse semplicemente non sono il lettore adatto per questi due romanzi li ho trovati davvero mediocre le nostre anime di notte di Kent Haruf è l'ultimo romanzo che ha scritto Kent Haruf prima di morire è la conclusione del suo ciclo di Holt questa narrazione dedicata a questa piccola cittadina inventata in America ma che però sembra più vera del vero dopo che sei arrivato appunto a questo quarto romanzo avevo già letto i primi tre che sono strabilianti questo è un ottimo romanzo secondo me si vede un po' l'urgenza di chiuderlo ci sono delle parti che sono un po' ridondanti parla dell'amore tra due anziani tra due persone anziane che ritrovano un sentimento d'amore dopo molti anni che sono ormai entrambi i vedovi lo lascio ultimo in A perché ripeto è il meno riuscito di Kent Haruf ma decisamente un buon libro Le porte dell'Eden è un libro di fantascienza parecchio divertente è una storia sul multiverso e su una guerra che sta per avvenire tra tutti gli universi che compongono il multiverso e che potrebbe far crollare l'impalcatura stessa che regge appunto questo sistema è un romanzo divertente forse il finale non è all'altezza di tutto il resto del romanzo invece capolavoro del romanzo breve i salici di Algernon Blackwood è la storia di questa coppia di turisti che attraversa il Danubio e si ritrova su un'isoletta in cui scopriranno che c'è una sorta di smagliatura nella realtà e qualcosa qualcosa di orribile sta protendendo le sue mani verso di loro attraverso quello strappo nella realtà fa parte di quell'orrore cosmico che ha reso famigerato Lovecraft e forse rispetto a Lovecraft la scrittura di Algernon Blackwood è ancora più precisa ancora più terribile nell'evocare quell'orrore assolutamente una S una S anche alta per me l'Ira è il secondo romanzo della saga di Gart Nix legata alla Borsen cioè quella persona che in questo mondo dedica la sua vita a far rimanere i morti dove dovrebbero stare cioè nel regno dei morti secondo me è proprio il più fulgito esempio di come andrebbe fatto lo Young Adult c'è un warbuilding perfetto personaggi divertentissimi ripeto è il secondo romanzo della saga però è una sorta di reboot di restart per la saga ci sono nuovi protagonisti mi è piaciuto tantissimo mi ha lasciato davvero con il fiato sospeso ve lo lascio in A anche questo abbastanza in alto sapete che ho un debole per il fantasy ma è un ottimo ottimo romanzo La Piena primo romanzo della saga di Blackwater è la storia di questa famiglia negli Stati Uniti che durante una piena che allaga Blackwater la cittadina dove vivono e dove hanno le proprietà incontra una donna che sembra essere stata portata dal fiume e che ha uno strano rapporto con il fiume è una storia una saga familiare con una sottile venatura horror sovrannaturale mi è piaciuto non straordinariamente però è un buon romanzo la saga è composta da più volumi sicuramente proseguirò la lettura però quest'anno tra una cosa e l'altra non sono mai stato così invogliato a continuare L'occhio del mondo è il primo romanzo della saga di Robert Jordan La ruota del tempo l'ho trovato un pochino troppo aderente ai canoni tolkieniani non mi ha entusiasmato tra l'altro la scrittura davvero pesante di Jordan non è nelle mie corde non è comunque un brutto romanzo ve lo lascio ultimo in B secondo me meno buono del primo romanzo della saga di Malazan invece era là sotto e non si vedeva più Jade City Jade City facciamo subito ve lo metto in A molto 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 in alto molto molto in alto primo in A è il primo romanzo di questa saga fantasy urban fantasy ambientata in quest'isoletta inventata che ha molto della cultura asiatica e quest'isola è governata da queste famiglie criminali immaginatele un po' proprio come delle famiglie mafiose da il padrino che però utilizzano una magia molto particolare legata a una pietra una pietra verde tramite cui ottengono dei poteri che li rendono praticamente dei supereroi mi è piaciuto moltissimo questa strana commissione tra storia mafiosa di mafia a il padrino con l'urban fantasy e tra l'altro mi sento sempre di premiare i fantasy che tirano fuori qualcosa di nuovo di inaspettato anche se mi piacciono anche poi i super classici come il trono del drago e fondali ha creato un fantasy davvero davvero nuovo e davvero davvero interessante non vedo l'ora di proseguire la saga e lo farò sicuramente il prossimo anno detto questo per questa tier list e per questo video era tutto spero che abbiate trovato qualcosa da leggere nella lunga lista dei libri che ho letto quest'anno vi ricordo sempre che il meglio i due migliori libri perché ripeto è una sorta di ex equo i due migliori libri che ho letto quest'anno saranno contenuti nel video che uscirà all'inizio dell'anno prossimo in cui parleremo del meglio del meglio i migliori film le migliori serie i migliori libri i migliori fumetti che ho letto durante il 2023 spero anche che questo video vi sia piaciuto e se è effettivamente così vi ricordo di mettere un like iscrivervi al canale e attivare le notifiche noi se tutto va bene ci vediamo in un prossimo video il prossimo venerdì ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti